mauro fontemaggi bellissima vittoria squillante ce ne sono state tante occasioni e questa sera veramente abbiamo visto una forte intensità nel gioco della coccinella sì io nonostante la vittoria ti dico la verità non sono soddisfatto perché conosco quelle che sono le potenzialità delle ragazze e mi dispiace vederle giocare da sedute punteggio rotondo sicuramente abbiamo preso gol su episodi infortuni incertezze non sono i golli che mi preoccupano la questione è la mentalità la mentalità deve essere vincente in tutte le partite da seduti non si vincono le partite bisogna mettere sempre grinta tanta grinta e il massimo sempre ecco quando chiedi grinta spesso durante le partite ti proprio arrabbi nel proprio nel vero senso della parola chiedi sempre una forte concentrazione ma è forse anche il fatto di trovarsi davanti una squadra che anche la posizione di classifica non ti rende il gioco possibile ma è al caso cinque tu come ben sai ogni partita se non esiste una squadra di alta di bassa classifica perché in episodi sono ci sono gli episodi ogni minuto c'è un episodio che può cambiare la partita e chiedo la massima concentrazione perché il giocatore che si definisce tale è il giocatore che sa risolvere il problema sono capaci tutti a fare gol quando arriva la palla bene il problema è fare gol quando arriva la palla male è lì che il giocatore deve aprire quel file che ha in testa e dire come fare gol quando la palla arriva male senza e lo deve fare punto e basta da dove si riparte in settimana soprattutto perché c'è una importante trasferta giulianello sicuramente una trasferta molto impegnativa lo sappiamo campo piccolo squadra ostica molto fisica per cui questa settimana lavoreremo su questo massima concentrazione partita di oggi chiusa archiviata e si pensa alla settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti